Presentata la nuova iniziativa di Rivivi Soverato siamo con Peppe Chiaravalloti con parte del nuovo direttivo di Rivivi Soverato per appunto illustrare questi primi due eventi 18 e 19 luglio con due mostre ma con una serie di eventi collaterali collegati a queste due giornate Sì, iniziamo alla grande diciamo con questi due eventi, due mostre fotografiche una a cura dell'associazione La Rete di Squillace che ci hanno onorato della presenza di queste e l'altra di Ernesto Sesteto, anche questa è una new entry perché siamo riusciti a convincerlo perché ha veramente delle foto meravigliose, anzi io ho cercato di stimolarlo perché oltre quelle subacquee tra virgolette ci dia qualche chicca di Soverato antica e lui ce ne ha parecchie di queste foto me l'ha promesso, speriamo che le tire fuori e poi ci sarà l'evento di questo gran galà del peperoncino su Corso Umberto che sarà addobbato in maniera molto suggestiva a tutte le vetrine addobbate con il tema del peperoncino questo grazie a loro, grazie veramente a tutti i commercianti del Corso veramente che sono dati da fare, è un bel gruppo e di questo veramente sono onorato di far parte di questo gruppo e mi onoro perché in loro come in me c'è questo entusiasmo di voler dare veramente una scossa a questa città, come ho detto in conferenza stampa dobbiamo pensare a tirarci su e darci da fare I commercianti per i commercianti ma i commercianti anche per Soverato quindi Soverato usufruirà in un periodo di vuoto politico di iniziative volute dagli stessi commercianti che andranno comunque a beneficio dei turisti che dei cittadini abbiamo sentito in conferenza stampa, lo diceva Cate che abbiamo qui che anche da fuori Soverato ci sono adesioni e quindi arrivi di Soverato quindi vuol dire insomma che si sta lavorando bene Sì, si sta lavorando benissimo, abbiamo questa adesione come abbiamo detto e quindi è una cosa molto ma molto positiva significa che la gente forse ha visto in noi questa voglia di fare a prescindere, quindi questa voglia di fare, questa voglia di creare questa voglia di dare veramente per quanto c'è possibile una scossa a Soverato e tutti quanti insieme speriamo di darcela Grazie a tutti